e quindi dobbiamo tornare qui perchè praticamente dobbiamo prendere sti scudi 3 maghi e comunque adesso vi voglio far vedere che ho fatto anzi no scelgo ora secco ovviamente il piccolo tiarei faccio personaggi scuola tanto non gli serve fa fattura 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 vittorio anzi mettiamo a caso mettiamo a caso vediamo io aumenta il potere da fattore di roma bene possiamo andare finalmente non rompermi le palle professore che palle sti sassi guardate posso grazie al potenziamento posso sollevare i sassi come niente ecco ecco prendiamo andiamo qui e vediamo che succede forza forza adesso dannazzi dannazzi ha applicato sul blocco usa ha capito attenzione te l'avevo detto anzi no è è il mio nome che si è fatta male forte ha ha si è fatta male anche stavolta stavolta ah lo so lo so lo so aspera spegni sto fuoco aia ecco adesso apriamo il can apriamo il cancello ecco fatto spegniamo il fuoco dai su proviamo a farlo da più vicino no se questo fuoco si spegnesse ma 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 a dire in alto e adesso come faccio vado sa vincardio vincardio eri mi aiuti che confini c ma 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 Vieni qua Armione No ho sbagliato Solleva questa Questo blocco Forza sbrigatevi Ecco finalmente Ecco Ecco Tire Tire Dai su Forza ce la fa Ma va quel paese Anzi no meglio spegnere il fuoco Prima Scendi Ron Forza spegni sto fuoco Usate la magia Oh alleluia Forza 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 Dai spenti fuoco Oh alleluia 5 mini scudi 5 mini scudi Bene Tira Ron Tira Forza Dai che ce la stiamo facendo Dai Vieni giù cancelletto Che voglio passare sopra di te Ma va Dai forza 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 che ce lo sto per fare Eh Oh ecco fatto Oh ecco fatto Ho sbagliato Forza Ecco Presto sbrigatevi Ragazzi Che state combinando Ragazzi che state combinando Affio Stavo per cadere Ermione Ermione che stai facendo Oh Sbrigatevi Vuoi sbrigarti Ermione Oh alleluia Purtroppo questi qui sono un po' lenti No Stupito da Stupito cubo vuoi dire Ermione che stai cadendo lentamente Sbrigatevi Che forza Ma siete dei Scendete tutte e due Sbrigati Ecco fatto Ora non mi serve più Il vostro aiuto Imbecilli Ora ci apprestiamo Ora andiamo a prendere La Lo scudo tra maghi Ecco fatto Bene Ovviamente Avanziamo Aumentiamo la nostra esperienza Nuove figurine ottenute zero Ma va col paese Ecco Aspettiamo che salvi Bene Ecco Ecco Un altro Scudo preso Sbrigiamoci Sbrigiamoci Su 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 Tetti di Hogwarts Forest Proibiti Ma l'acqua Ah serve Ma noi prendiamo un altro scudo 3 marchi sui tetti di Hogwarts Così Così ci evitiamo più rotture di palle possibili Prendiamo Harry Vigore 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 Ci sono solo da dieci quindi prendo un'altra da dieci No Vigore 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 Ottimo Ok Tanto non può cambiare A caso perchè tanto non me ne frega niente Ah giusto sono tre Quindi adesso avendo preso la vita la mia fattura sale No la mia vita sale a 150 quanta quittimio mette no di ritorno aumentato della vita insomma solleviamo sti scudi ma poi in realtà non serve il potenziamento per sollevarli prendiamo le gelatine credo che troverete la prossima creatura oh my god eh lo so lo so lo so ron anche ho paura l'anno dai scherzi accio ecco anche questo cancella aperto c'è qualcuno che ha paura come me anzi no sì io no scherzo anche stavolta su dai dai appassa il punto elevatoio quadrato appassa il punto elevatoio muove destra e sinistra per tirare più velocemente interessante Grazie.